Atami 1, Riccardo Legler, Ettore Roberto. A seguire, Riccardo Poesi e Vittorio Caraglio. Ascoltate per possedere le indicazioni. Attenzione che saltano giù. Ecco, controlla. Tieni le giù le gambe, tieni le giù le gambe. Subito vantaggio, bravo Fabio, bravo, bravo. Tieni, tieni lì. Attenzione, guarda che prende la schiena. Ok, giù, giù, giù. Non farlo alzare. Gira, essalo lì. Eccolo lì, eccolo lì. Attenzione che rifà la stessa cosa, rifà la stessa cosa. Il braccio dove va? Va davanti alla testa Fabio. Davanti alla testa Fabio il braccio, davanti alla testa, davanti alla testa. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1 vantaggi, eh Fabio? Guarda che va subito giù, eh? In croce. Guarda che scende subito. Bravo, bravo! Bravo, tienilo lì, tienilo lì, tienilo lì. Bravo Fabio, bravo. Bravo, bravo Fabio. Va bene, va bene. Massimo Filini, attentrere peso e piano dai ragazzi. Tieni, eh? Tieni, tieni. Tieni, 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 no! Gira, 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 subito, subito, va bene. Pressione, pressione. Altro vantaggio Fabio. Vai per step, lavora per step. Il testa dove va? Attenzione, bravo. Gira ancora in ginocchio, per il mio no. Spingi Fabio, spingi, guarda che ti chiude. Ok. Attenzione. Entra nella guardia. Attenzione, non farti passare la guardia. Ok, chiudi, chiudi. Mezza guardia, ok, bene, bene, ok. Tranquillo. Non faticare, non voglio che faticchi, eh? Non voglio che faticchi, Fabio. Vai Giovanni, fregale forte. Attenzione, guarda che lui tenta adesso a prendere la monto. Occhio, eh. Occhio, stai attento, eh. Stai attento. Subito, subito, riprendi la guardia. Riprendi subito la guardia, riprendi subito la guardia, Fabio. Gira al contrario, gira al contrario. Gira al contrario. Esci da lì. Bravo, chiudi, ok, ok. Benissimo. Benissimo. Fabio, sei 4 a 2, eh. Attenzione, Fabio, Fabio. Fabio, sei 4 a 2, eh. Devi fare almeno due punti e un vantaggio. Vai sul Bavaro. Ok, lavora, ok. Vai, vai, grip, vai. Manicotto. Ecco, esatto. L'idea è buona. No, 7 a 2. 7 a 2. Perché mi ha fatto schieramento 2 e monta 4. Fabio, sei sotto in 7 a 2, eh. Vai sul Bavaro, Fabio. Vai sul Bavaro. No, no. Gira subito. Sei. Esci subito da lì. Esci subito da lì, Fabio. Sul culo, piramide. Guarda che prende la schiena. Tirala, tirala. Cosa è che c'è? C'è il braccio? Bene, bene, bene. La braccia è il suo braccio. Bravo. Attenzione, Fabio. Gira, gira, gira. Anche verso lì, il testo di lui. Se giri, senza anti-orario, te lo butti i 100 kg. Ecco, sì, gira anche sotto. Vai, continua la rotazione. Voi, stila... Prazer non c'è va. Vai, vai, vai. Tira. Bravo. Brava, estira la coja. Bord. Bord, coladro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.